L'inseguimento in macchina. Il finale mi è piaciuto molto sicuramente, quello con il tramonto e anche la scena del battesimo. Ma non saprei dire la scena preferita, comunque mi è piaciuto molto. Il battesimo, mi è piaciuto, non credo ci sarebbe arrivato dopo tutte le peripezie. Quella degli occhi, quando ha aperto il baule si vedevano quegli occhi che poi in realtà erano lampadine. Il battesimo senz'altro. Non saprei, non glielo so dire. Ma è forse l'ultima quando lui si identifica col padre che è morto andando a schiantarsi a 300 l'ora, che farà la sua fine, insomma, predestinato. Grazie.